Consiglio, io sono cominciato per esempio a me che riguarda un atteggiamento leale. Leale non vuol dire buone, vuol dire buone, ma sempre sono le cose delle cose, di concorso difficile e di lealtà a base delle cose. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.